Zelda Majora's Mask, l'avventura più affascinante, imprevedibile e misteriosa di questa epica saga. Monster Hunter 4 Ultimate, una perla di azione e strategia con il multiplayer migliore di sempre. Xenoblade Chronicles, uno dei più grandi giochi di ruolo nella storia del genere. Questi e tanti altri titoli ti aspettano su New Nintendo 3DS e New Nintendo 3DS XL, anche in edizioni speciali.